Non hanno in marchio CEI requisiti minimi di sicurezza. La Guardia di Finanza di Sulmona ha scoperto e sequestrato 43.000 apparecchi elettronici per l'illuminazione provenienti dal mercato cinese. Le fiamme gialle pelinne hanno incentrato in particolare la propria attenzione nei confronti di un'attività commerciale che deteneva per la vendita grandi quantità di luci per addobbi natalizi a prezzi insolitamente bassi. Gli stessi sono infatti risultati essere privi della marcatura CEI di istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei prodotti e della garanzia. Per i finanzieri coordinati dal comandante Luigi Falce i prodotti rappresentano un rischio concreto per la salute e la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. L'operazione a tutela dei consumatori a garanzia del regolare mercato quotidianamente invaso da prodotti a basso costo e dalle scarsi standard qualitativi si inserisce in una più ampia attività di controllo del fenomeno atteso anche l'ormai vicino periodo natalizio durante il quale nelle famiglie si è soliti preparare i tradizionali addobbi.